Segretario della Federazione Nazionale della Stampa, lo russo oggi a Pescara per parlare anche dei problemi che affliggono la stampa italiana e anche quella abruzzese, un momento molto difficile anche nella nostra regione, ci sono tante vertenze in atto. Il settore dell'editoria è ancora immerso in una crisi di natura strutturale dalla quale secondo noi si può venire fuori da una parte ridisegnando quello che è l'impianto normativo che deve regolare il sistema nel suo complesso, dall'altro però intavolando un confronto con gli editori, quindi con le aziende editoriali, incentrato sulla importanza e sull'assoluta centralità della informazione di qualità, perché senza qualità l'informazione non ha più ragion d'essere l'informazione professionale. Tanti giornalisti, molti sottopagati, malpagati, è questa una piaga da debellare? Diciamo che c'è innanzitutto un problema di rivedere le regole di accesso alla professione, è chiaro che qui non è in discussione l'abilitazione all'esercizio della professione, quanto appunto la distinzione tra chi è abilitato all'esercizio della professione e chi la professione la esercita realmente, la esercita effettivamente. La legge sull'editoria, come sapete, ha fatto il primo passaggio, è stata approvata dalla Camera e adesso è arrivata al Senato dove deve essere calendarizzata. Sappiamo soltanto che è stata assegnata la prima commissione, quindi poi ci saranno tutti i passaggi previsti dai regolamenti anche in Senato.